Gli enti locali non declassino il turismo. Non è più possibile che nello stesso giorno e negli stessi periodi gli eventi si accavallino innestando un inutile fenomeno di concorrenza. È necessaria una governance territoriale autorevole e non autoreferenziale. È il monito l'Angelo D'Angelo Pellegrino, direttore della CESCOT, e Pietro Leonardozzi, vicepresidente della Convesercenti provinciale. Secondo CESCOT e Convesercenti la ripresa del territorio passa per il turismo e il rilancio delle piccole imprese passa per la riduzione della fiscalità. A fronte di un deciso arretramento delle imprese commerciali, il comparto turistico potrebbe attutire il colpo con un aumento degli arrivi, delle presenze e della permanenza media. Ma se questo deve essere, c'è bisogno di un contesto istituzionale più favorevole. L'armonizzazione della promozione deve fare passi avanti su scala territoriale, scrivono Pellegrino e Leonardozzi in una nota. Per questo tutti i soggetti pubblici, ma anche quelli privati, devono dotarsi di regole moderne, semplici e chiare, ma valide per tutti, che in qualche modo potrebbero trarre benefici dal turismo. In pratica, occorre operare in termini di aree omogenee e sviluppare la promozione integrata delle attività turistiche. Secondo i due, oggi è necessaria una risposta concreta in termini di atti e attenzioni sul ruolo sociale delle piccole imprese commerciali, negli ultimi anni bersagliate da deregulation normative e prelevi fiscali. Credito, formazione, turismo, cultura, storia e attenzione alle opportunità di investimento. Questa è la ricetta di Cescote con Vesercenti da seguire nell'immediato futuro, affinché non sia più necessario denunciare le difficoltà generate dalla fiscalità locale e non solo per le imprese. Altre volte, e in altri territori, il turismo ha fatto da volano per una ripresa degli altri settori, Chiosano, Pellegrino e Leonardozzi. Dobbiamo spiegare che questo accada anche qui e ora e in questa direzione che il nostro impegno dovrà essere diretto.